Il blocco in partenza In questo weekend di Images24 abbiamo sperimentato quanto possa essere dannoso il fatto di avere una sorta di blocco mentale durante la partenza Perché la partenza è un momento, dico delle ovvietà, però giova a ribadirlo, fondamentale della regata Non si può pensare di essere di buoni regatanti se non sia anche di buoni partenti Ti può capitare di riuscire a recuperare una regata anche funestata da una cattiva partenza Ma alcune volte intanto non è possibile Più la regata è breve, più comunque è poco aperta, più una partenza negativa ti pregiudica un arrivo nelle primissime posizioni sicuramente Anzi spesso ti relega proprio in fondo al gruppo Ne parlavamo con Niccolò Bertola e con tutto l'equipaggio di Taki4 Giovanni Bannetta che tra l'altro conosce Niccolò molto bene eccetera E non si riusciva a capire quello che potesse essere la chiave per la soluzione di questo problema Perché Niccolò è sempre partito molto bene e questa volta invece ha manifestato delle difficoltà Ma mi dicono che le difficoltà col Melgest 24, soltanto col Melgest 24 Nascono da più indietro, da qualche tappa prima Non è facile trovare una soluzione Sicuramente pensiamo di lavorare sull'allenamento Io mi ricordo, io sono diciamo mediamente un cattivo partente Però mi ricordo che quando ero allenato in questo fondamentale Poi dopo ero diventato discreto Insomma non super ma discreto E però l'allenamento è sempre comunque una bella chiave Perché comunque il fatto di eseguire cento volte Mille volte lo stesso movimento Fa sì che comunque nel momento in cui tu sei regata Semplicemente esegua quello che sai assolutamente già fare Per cui non è sicuramente l'allenamento una delle chiave Un'altra chiave è proprio la sicurezza di poterne uscire Con aggressività in un certo senso la linea Proprio di essere sparato come gli anglosassoni dicono Pull the trigger Che è un'espressione un po' guarafondaglia se volete Però che rende abbastanza l'idea La partenza è proprio come diciamo Premere il grilletto nel momento giusto Non c'è una prova d'appello Cioè non è che se lo fai dopo due secondi va bene uguale In una partenza ad alto livello va bene Soltanto se premi esattamente in quel momento lì Quindi paradossalmente la costruzione della partenza precedente Può essere quasi più negativa Cioè il fatto di riuscire a scavarsi il proprio spazio E tutta la preparazione precedente Ti può in un certo senso mentalmente convincere di aver comunque già fatto In un certo senso il tuo E poi mentalmente ti scarica del fatto di dire Poi devo essere veloce Devo uscire proprio esattamente al colpo di cannone Devo uscire da linea con uno sparo Secondo me tendenzialmente quando uno è in questo loop mentale In cui fa fatica a ritrovare il ritmo giusto per la partenza Effettivamente questo può essere un problema Il fatto di dire Mi concentro sulle fasi preliminari E poi dopo Quell'altra poi verrà Invece quell'altra non viene Le partenze si possono vincere o perdere Anche negli ultimissimi secondi Per cui se si possono perdere In tutta la Diciamo in tutta l'evoluzione Dei 5 minuti Se volete la partenza 5 minuti esagerato Ma diciamo In 3 minuti della partenza La puoi perdere Anche se sei più o meno in pressa e allinea La puoi perdere Ma Negli ultimi Ultimissimi secondi Fai la differenza tra una partenza mediocre o scarsa E una partenza ottima E questo ha a che fare con i riflessi Che uno può avere Io ad esempio Gli ho scarsissimi Però comunque si possono allenare Insomma C'è chi ce li ha Diciamo naturalmente Come Nicolò ad esempio Ce li ha naturalmente Quindi è tendenzialmente un buon partente Si tratta di Ricostruire psicologicamente Quello che è Quella situazione Per Soltanto per il Magus 24 Perché poi in realtà In altre classi Il problema non c'è Bisogna ricreare Forse atmosfera giusta a bordo Perché Comunque si possa Diciamo Esplodere Tutta l'energia Nel momento Nel momento giusto Vedremo Vedremo come fare Vi terrò Aggiornati Ciao Buona giornata